Ah, merda. Hai visto Maya ieri? No. No. Le piaci sul serio, bello. Stefani te lo dirà. Ti fai un po' più in là, scusa Jack, grazie. Eh, devi battere il ferro finché è caldo. E il ferro è caldo. Saggio consiglio, Jack. Mi raccomando, peso sui talloni, ok? Ok. E segui con tutto l'addome. L'addome, così. Bene. Saputo qualcosa dal tuo agente? No. Per te che vuol dire? Può voler dire di tutto. Controlli i messaggi? Ossessivamente. Ah. Dovrò gettare nel cesso altri tre anni della mia vita. Beh, non hai ancora saputo niente. Non credi che la tua negatività sia un po' prematura? Hm? Ok, senti. Fanculo gli editori di New York. Pubblicalo da solo. Ti finanzio io. Il libro deve uscire. Avere recensioni. Andare nelle biblioteche. Sarà il pubblico a decidere. Non piegarti troppo. Stai fermo. Sta zitto. Il segreto è stare fermi. Calma interiore. Ora basta! Ora basta! Ora basta! Cristo santo! Devi per forza parlare! Puoi stare zitto una volta tanto! Che palle! Ah! Ah! Perché sei così ostile? So che sei un po' frustrato ultimamente, ti capisco, ma potresti anche essere meno ostile. Che cazzo l'ha tirata? Sbrigatemi! Tocca a noi! Oh, bene. Bene. Ehi! Non è carino, cazzone! Bel tiro! Coglioni! Oh! Ops! Scusate! Ah! Ah! Oh! Oh, guarda là! Adesso ci divertiamo! Adesso ci divertiamo! Vai, vai! Ah! Ah!